Si torna al voto nel comune di Sansepolcro domenica 17 e lunedì 18 ottobre per il turno di ballottaggio. I seggi rimarranno aperti dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. La sfida sarà tra Fabrizio Innocenti, candidato a sindaco di Sansepolcro e sostenuto da Lega, Forza Italia, Moderati e Riformisti, Borgo al Centro e Innocenti Sindaco. Invito tutti i cittadini di Sansepolcro a recarsi al voto perché è un diritto dovere e perché chiaramente è in ballo il governo della città per i prossimi 5 anni e forse anche per i prossimi 10. Per cui ritengo di avere tutte le caratteristiche per essere fiduciato dalla città in quanto una squadra pronta, preparata per ripartire subito. Infatti il nostro slogan è esperienza e competenza per ripartire subito. Quindi chiedo il voto di tutti i cittadini e anche di quell'elettorato moderato che è rimasto escluso da questa sfida finale. E Andrea Laurenzi, candidato invece della coalizione composta da Partito Democratico Insieme Possiamo e Adesso. Noi offriamo la nostra competenza, il nostro percorso, il mio percorso che è anche vissuto di una fase da amministratore ma anche dentro la città nel mondo dell'associazionismo e dell'impresa. Assieme a me è un gruppo di persone credibili che hanno costruito il nostro progetto plurale e collettivo. Offriamo un'offerta ben precisa che abbiamo chiamato di ricambio generazionale che parte dalla nostra storia ma abbraccia, vuole rilanciare tanto e vuole rilanciare una parola importante che sono i giovani. Ci impegniamo per la cura del nostro paese e per rilanciare la grande immagine e la grande prospettiva per Sansepolcro. Al primo turno Innocenti aveva raccolto il 39,54% dei consensi, Laurenzi il 40,60%.